Ciao a tutti amici appassionati di orologi e benvenuti nella mia personalissima recensione del nuovo Seiko 5 Sport che io ho acquistato nella variante con quadrante verde e ghiera verde. Ragazzi c'è una piccola e doverosa premessa riguardo a questa recensione che è molto particolare in quanto parla di una collezione di orologi che per il più è il diretto successore del Seiko SKX, il famoso Pro Diver degli anni 70, anzi di fine anni 70. Beh sinceramente io in questa recensione voglio parlare di questo modello e di questa collezione completamente staccandoli dall'SKX perché secondo me sì non è il suo diretto successore, le differenze secondo me sono troppe soprattutto quello che Seiko sta creando intorno a questo modello fatto di varianti, fatto di colori, fatto di esperienze, fatto di edizioni speciali, basti pensare alle edizioni speciali per i manga, per gli anime o per i personaggi dei videogames. Ragazzi se Seiko, e questo è un mio parere, se Seiko avesse voluto creare un nuovo SKX fatto anch'esso di colori e di varianti ed edizioni speciali, secondo me lo avrebbe fatto. Invece volutamente è stata creata questa nuova collezione che si distacca anche a grandi linee dall'SKX e quindi diciamo che nessuno dei due merita di essere così tanto paragonato all'altro, soprattutto questo Seiko 5 Sport che io ho trovato un orologio molto comodo, adatto a tutti, con un buon movimento solido, delle rifiniture di tutto rilievo di prestigio, con una cassa da 42 mm e mezzo che però riesce ad adattarsi bene ai polsi sia di uomini sia di donne, un sacco di varianti di colore, un orologio che sa essere allo stesso tempo casual, elegante e sportivo in base al cinturino che ci andiamo a montare. Beh, sì, secondo me questo è il Seiko 5 Sport e non è, no, non è il nuovo SKX. E fatta questa doverosa premessa diamo uno sguardo più da vicino a questo modello che come avete visto rispetto all'unboxing ha qualcosa di diverso, si è cambiato il cinturino. Io ho tolto il suo bracciale in acciaio eccolo qui che comunque vi mostrerò adesso in fase di recensione perché nel frattempo durante le due settimane di utilizzo ci sono arrivati i nuovi cinturini che ho acquistato dal sito di WatchGecko. Ragazzi non ho nessun rapporto lavorativo né di cooperazione con questo sito ma vi lascio comunque il link in descrizione perché lo trovo molto completo e molto fornito. Ci sono cinturini in nato, cinturini in cuoio, cinturini in pelle, cinturini in gomma, cinturini in acciaio per tutte le tasche di tutte le misure, di tutti i colori ed è veramente ben fornito. L'ottimo rapporto quel dal prezzo dei cinturini mi spinge a consigliarlo davvero a tutti. Non solo cinturini ci sono anche gli accessori come box per gli orologi, accessori travel case e tante tante altre cose. Dattici un'occhiata ma adesso passiamo al Seiko 5 Sport. Ed eccoci dopo circa due settimane di utilizzo sono pronto a parlarvi di questo bellissimo Seiko 5 Sport con referenza SRPD 63K1. Allora vi dico subito che quando abbiamo tirato fuori dalla scatola questo orologio per la prima volta la reazione di mia moglie è stata wow questo sì che è un bello orologio non come gli altri che hai andando a sminuire completamente tutti gli altri orologi che sono all'interno della mia collezione. Però ragazzi questo ve l'ho voluto raccontare della verità per rafforzare la tesi della quale parlavamo inizio video e cioè che con questa nuova collezione Seiko non vuole andare a raccogliere i consensi da parte degli appassionati e dai fedelissimi dell'SKX di fine anni 70 ma andare a raccogliere le nuove generazioni, andare ad attirare tutti i giovani e gli amanti dei colori e che vogliono entrare a far parte di un mondo fatto di orologeria automatica e manuale meccanica insomma di qualità rispetto ai classici fashion watches quindi andare ad avvicinarsi a brand ben più famosi di altri tant'è che mia moglie è anche stata totalmente rapita da questo modello e da questo orologio. Allora parlando dell'estetica inizierei a parlare del bracciale. Il bracciale di Seiko questa volta è molto più di sostanza rispetto al mio vecchio Seiko 5 molto più robusto molto più pesante si notano anche le maglie sono rifinite molto meglio e non c'è più quel lamierino rigirato così sottile e che strappava i peli con tantissima facilità. Abbiamo i classici pins per andare ad eliminare delle maglie andare a smontare le maglie lo stesso cinturino si smonta facilmente grazie allo sgancio semirapido vedete che c'è qui sulla cassa basterà inserire il tool in uno di questi due fori per andare a sganciare in pochi secondi il bracciale o in questo caso il cinturino. La chiusura è una doppia chiusura di sicurezza abbastanza doppia vedete la parte centrale invece il solito lamierino un po' diciamo così pressato sottile 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 ma la chiusura vedete una volta fissata è molto stabile anche se lo andiamo a premere in vari punti è molto solida. Abbiamo le quattro micro regolazioni sul lato insomma trovo che sia effettivamente un bracciale fatto molto bene un bracciale di qualità seppur questo modello secondo me si presta benissimo alle personalizzazioni come aver montato questo fantastico cinturino in vera pelle ve lo faccio vedere vera pelle italiana eccolo qui genuina vedete il passo dell'aghe 22 mm quindi potete andare a montare qualsiasi cinturino vogliate guardate quanto è bello quanto è rifinito questo cinturino in cuoio noi per esempio dal sito di uocijiko abbiamo anche acquistato perché con il verde ci poteva stare benissimo oltre il tabacco il marrone scuro ci può stare benissimo anche il giallo questo cinturino nato un altro ottimo accostamento secondo noi di questo orologio infatti il cinturino nato su questo verde un cinturino estivo molto semplice da utilizzare facilmente lavabile fa respirare molto di più la pelle e quindi l'estate secondo me il cinturino nato è proprio il top che si può avere su un orologio allora andiamo a parlare dell'estetica quindi cassa 42,5 mm di diametro per uno spessore di 13,4 mm lag to lag di poco meno di 46 mm questo ci fa capire che è un orologio che nonostante le dimensioni generose della cassa di 42,5 mm le anze sono abbastanza corte vanno a vestire molto bene dei polsi anche dai 16 ai 17 cm per quello vi dicevo che va benissimo anche per polsi femminili tant'è che mia moglie lo utilizza tranquillamente non è un orologio molto pesante un orologio molto robusto la ghiera è unidirezionale 120 scatti sentite anche abbastanza precisa abbastanza ben fatta l'unico appunto da fare alla ghiera che a ore 12 non abbiamo il dot di superluminova e questo insomma continua a rafforzare la tesi che questo chiaramente non è un pro diver come abbiamo visto questa referenza ha un bellissimo quadrante verde con finiture dorate che circondano sia i bicchierini sia le sfere e questo crea un fantastico effetto io adesso voglio abbassare gli stop della fotocamera per farvelo vedere guardate quando mettiamo l'orologio in controluce la brillantezza della finitura dorata di sfere e di bicchierini così come dell'indici guardate crea questo effetto fantastico fa brillare l'orologio in questo modo rendendo facilissima la lettura e cambiando quasi totalmente la figura del quadrante guardate dallo scuro se noi ci mettiamo in controluce guardate che bello e sono sicuro che anche voi apprezzerete così come ho fatto io questo intanto riporto gli stop corretti e questo sono sicuro che anche a voi sarà piaciuto tantissimo come così come ha colpito me quando l'ho visto per la prima volta posso dirvi subito che le finiture le ho trovate eccellenti la cassa è prettamente lucida in quasi ogni sua parte guardate qui il lato libero tutto lucido il fondo della cassa è lucido il fondello è trasparente e lascia intravedere perfettamente vedete il calibro 4R36 di Seiko ed anche qui vedete non abbiamo un fondello chiuso nonostante insomma questo non sia uno dei movimenti più belli da vedere abbastanza spartano ma Seiko ha voluto comunque percorrere la strada del fondello trasparente per attirare gli appassionati così come me tra l'altro del fondello trasparente nel lato invece occupato dalla corona corona che non è a vite ma è a pressione abbiamo sempre la cassa lucida la corona invece vedete è satinata e non abbiamo alcuna incisione su di essa abbiamo una zigrinatura che ci permette di avere un ottimo grip la mattina magari in fase di avvio dell'orologio la corona è incassonata benissimo vedete nella cassa dell'orologio ed è a ore 4 cosa che io trovo tra l'altro molto molto comoda l'unica parte satinata la troviamo sulle anze vedete qui nella parte superiore nella parte inferiore dell'orologio abbiamo una satinatura molto leggera molto pulita che va a raccordarsi perfettamente col lato lucido dell'orologio attraverso un impercettibile bisello anch'esso in finitura a pollici un'infinitura lucidata lucidata anche vedete tutta la ghiera tutto il lato laterale della ghiera che ha questa bellissima lavorazione che aumenta e favorisce il grip quando vogliamo muoverla una ghiera che è sopraelevata e fa vedere perfettamente il vetro che non è zaffero ma è l'hardlex classico di questi modelli ed è un vetro piatto la leggibilità è ottima come possiamo vedere da qualsiasi angolazione abbiamo fatto un accenno al movimento movimento che presenta tra le sue caratteristiche anche l'h dei secondi infatti se andiamo a tirar via la corona vedremo la lancetta dei secondi fermarsi un movimento fluido veramente tanto fluido robusto e anche abbastanza preciso non so se sono stato fortunato io con questo modello ma dalle varie misurazioni che ho fatto mi sono sempre anzi quasi sempre fermato sui più 5 massimo più 7 secondi al giorno veramente un ottimo movimento presenta 24 rubini 41 ore di riserva di carica e 21 mila e 600 alternanze ora a ore 3 abbiamo la finestra rettangolare riguardante la complicazione della data del giorno della settimana sfondo bianco con caratteri neri per i numeri e caratteri neri anche per i giorni della settimana che vanno da lunedì al venerdì come abbiamo detto per il sabato e la domenica abbiamo invece colori rispettivamente blu e rossi non abbiamo alcuna cornice su questa finestra nessun abbellimento di sorta facciamo ripartire premendo la corona ecco i secondi perché vogliamo andare a vedere a ore 12 abbiamo il logo seico applicato così come sono applicati sia ai bicchierini sia l'indice di ore 6 ore 9 mentre abbiamo un grosso triangolo per le ore 12 tutti strapieni di superluminova superluminova molto luminescente che si attiva subito molto luminescente anche il superluminova presente sulle sfere di ore e minuti mentre non abbiamo nessun superluminova particolare sulla lancetta dei secondi tranne un lollipop che è posto nella parte retrostante vedete non superiore della lancetta della sfera dei secondi sempre ore 12 ma questa volta stampato sul quadrante troviamo il logo che contraddistingue queste nuove collezioni c'è questa s o 5 o serpentone stilizzato che per molti viene scambiato spesso per il logo di superman mentre a ore 6 abbiamo invece in corsivo la scritta automatica anch'essa impressa sul quadrante guardando lateralmente il quadrante possiamo osservare l'anello dove sono impressi i minuti devo dire che sono tutti quanti ben allineati non ho trovato dei disallineamenti particolari considerata la fascia di prezzo dell'orologio infatti secondo me abbiamo delle finiture di tutto rispetto una cosa che mi piace particolarmente di questo quadrante e quanto quanto sia profondo vedete rispetto al bordo e rispetto al vetro questa sensazione di tridimensionalità insomma di profondità del quadrante unita ai bicchierini applicati un effetto che mi piace mi piace veramente tanto perché crea un sacco di effetti di luce molto piacevoli su tutto l'orologio mi sono piaciute tantissimo anche la sfera delle ore e quella dei minuti le ho trovate ben proporzionate rispetto alle dimensioni del quadrante rispetto anche le dimensioni sia dei bicchierini sia degli indici che del triangolone ad ore 12 soprattutto mi è piaciuta la sfera dei minuti con questo freccione ben leggibile in qualsiasi ora della giornata sia di giorno che di notte la corona a pressione non a vite unita al fondello trasparente anch'esso a vite garantisce una profondità di 10 atmosfere o comunque di 100 metri si discosta abbastanza dal vecchio skx ma come abbiamo visto questo non è un pro diver e comunque 100 metri ci garantiscono di poter fare una doccia in tutta tranquillità di lavarci le mani in tutta tranquillità o perché no fare anche un tuffo in piscina in conclusione cari amici non posso di certo parlare male di questo modello l'ho trovato piacevole alla vista l'ho trovato molto robusto e con un movimento che seppur non bellissimo insomma è abbastanza preciso per un costo di circa 200 euro potrete avere con voi un orologio ampliamente personalizzabile potete scegliere varie combinazioni di colore potete acquistarlo con il suo bracciale in acciaio oppure con un bracciale in maglia milanese o ancora con un bracciale in gomma facilmente come dicevo personalizzabile un orologio da utilizzare tutti i giorni per tutte le occasioni anche quelle più formali va benissimo per tutti i polsi sia maschidiche femminili ed è anche ben rifinito e abbastanza preciso nei dettagli davvero un bello orologio brava seiko e questa era la mia personalissima recensione riguardo al seiko 5 sport mi raccomando fatemi sapere nei commenti tutto quello che pensate di questo modello se vi è piaciuto se potreste prenderlo in considerazione come primo orologio automatico semi diver oppure se vi piace e volete aggiungere un orologio colorato alla vostra collezione mi raccomando fatemelo sapere nei commenti ci tengo davvero tanto spero che la mia recensione possa esservi stata utile possa esservi piaciuta in tal caso lo sapete un like è sempre gradito e se non volete perdere le prossime recensioni che faremo sui nuovi orologi e sugli orologi che sono attualmente all'interno della collezione mi raccomando iscrivetevi al canale ed attivate la notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi contenuti prossimi quali video appuntamento nel frattempo vi mando un mega abbraccio vi auguro buona giornata ciao a tutti dal vostro bruno